Parte su sesta rete la nuova stagione di Forza Catania, la trasmissione dedicata alle sorti del calcio Catania che già nella prima edizione ha raccolto grandissimi consensi. Anche quest'anno l'appuntamento avrà accadenza settimanale, poiché entreremo nelle vostre case ogni giovedì sera dalle 20.30 alle 22.15, partendo da una breve panoramica su quanto è accaduto in casa rossa-azzurra nei primi giorni della settimana e proiettandoci alla nuova sfida che di volta in volta vedrà impegnato il Catania nel weekend ormai alle porte. Non mancheranno i momenti di larità, pensati e voluti come sempre dalla produzione per alleggerire una tematica come quella del calcio che non deve mai essere esasperata più del dovuto e che sarà argomentata dai contributi realizzati in esterna dai nostri inviati. Il tutto condito dalla preziosa presenza dei tesserati del calcio Catania e dal commento dei nostri opinionisti che avranno il compito di accendere il dibattito con i numerosi ospiti che di settimana in settimana si avvicenderanno in studio. Immancabile lo spazio dedicato ai tifosi che desiderano interagire con noi da casa, così come quello legato alle vignette deputate a fotografare sia il momento della squadra che le varie argomentazioni trattate durante i diversi momenti della trasmissione. La conduzione è affidata come di consueto ad Antonio Costa e Stefania Sberna e l'appuntamento è sempre sul canale 215 del Digitale Terrestre, qui su Sesta Rete. Segnatelo tra i vostri appuntamenti quindi. Forza Catania ogni giovedì dalle 20.30 alle 22.15 e la prima puntata arriva già questa sera. Non mancate, vi aspettiamo!